Io sono Ugo Parodi Giusino e sono il socio fondatore e l'amministratore delegato della Mosaicon. Io vorrei innanzitutto presentarvi un po' che cosa facciamo con la Mosaicon perché secondo me è un buon punto di partenza per poi parlare fondamentalmente dei due temi che sono legati a quello di oggi, cioè della creative economy e della mia personale visione della creative economy. La Mosaicon sviluppa dei suoi uffici di mondello, come diceva Raffaella e siamo rimasti a mondello, delle campagne pubblicitarie per grossi clienti nazionali e internazionali che vengono prodotte e distribuite un po' in tutto il mondo. Il punto di partenza è stato fondamentalmente riflettere molto su un'idea che stravolge un po' quelli che sono i principi tradizionali della comunicazione che sono diventati e diventano sempre di più i principi della comunicazione pubblicitaria, che è quello del mio settore, che fondamentalmente è un approccio molto verticale, per cui la creatività viene assolutamente sacrificata a fronte di quello che invece diventa il messaggio pubblicitario verticale dove un cliente, un'agenzia parla con qualcuno, con i suoi clienti, con i suoi utenti e dice il suo punto di vista senza aspettarsi nessun tipo di risposta. L'idea di partenza della Mosaicon è stata un po' esaminare un altro aspetto, che è proprio della mia generazione, del momento meraviglioso che viviamo, che è appunto il mondo di internet, che ha stravolto completamente tutti i parametri che erano quelli della comunicazione e che ha cambiato anche questo approccio per forza di cose. E quello che era un approccio verticale è diventato sempre di più un approccio orizzontale, per cui se io dico qualche cosa adesso gli utenti, chi mi ascolta, ha la possibilità di rispondermi e ovviamente nel processo, che poi comunque dal mio punto di vista è sempre un processo creativo, di creazione di contenuti e poi di dialogo con qualcuno, questa risposta degli utenti spesso su internet è diventata ancora più importante di quello che è poi il messaggio originario. Questo approccio, che è quello che è poi diventato l'approccio della Mosaicon, che è quello della realizzazione di campagne virali, adesso è un nome molto inflazionato, quando abbiamo cominciato fondamentalmente non si chiamavano così perché non esisteva il termine virale. La campagna virale vuol dire che il contenuto è talmente interessante e talmente coinvolgente che gli utenti sono spinti a mandarlo ad altri utenti, per cui là appunto il principio del virus, del contagio e del replicare quel messaggio e distribuirlo ad altri. Quello che in brevissimo abbiamo fatto, sempre partendo da Mondello, facendo piccoli passi e poi accelerando tantissimo, specialmente in questi ultimi anni, è stato riuscire a ottenere il primo finanziamento di venture capital nel sud Italia, cosa difficilissima come molti di voi sanno. La società è diventata adesso un SPA, si chiamava Bell Sito Media, adesso si chiama Mosaicon e ovviamente la creative economy è proprio il core business della società, cioè è proprio la società impostata su un approccio creativo molto originale e io non riesco assolutamente a prescindere quello che è la parola creatività da quello che è l'innovazione. Per me le due cose sono assolutamente di pari passo. Facendo questa premessa mi sembrava interessante affrontare due temi di quello che è poi un po' la filosofia che c'è dietro questo progetto che è cresciuto, che parte innanzitutto da una citazione meravigliosa che mi ha sempre guidato, Dedy Kubrick, che parlando di Griffin diceva io non ho mai creduto che la morale di Icaro dovesse essere non volare troppo in alto, ma al contrario potrebbe essere intesa come lascia stare la cera e le piume e costruisci ali più solide. Questa frase adesso è nella nostra sala riunioni della Mosaicon, mi ha guidato per tantissimi anni e tuttora me la leggo ogni giorno e me la ripasso, perché secondo me, e poi è quello chiaramente che è la mia personale visione, la creatività è fatta innanzitutto di un volo, cioè qualche cosa che si stacca da quello che è appunto la realtà quotidiana e che mira qualcosa di diverso, di innovativo, ma allo stesso tempo quello che richiede questo tipo di distacco è chiaramente un lavoro tecnico e di approfondimento e di duro lavoro, che è quello appunto dell'elaborazione di una tecnica che ti permette di costruire delle ali solide che ti permettono di portare avanti quel concetto creativo. E questa è stata un po' poi la chiave della Mosaicon, che ha unito appunto la creatività come primo input anche a partire da quest'idea. Io cito sempre un aneddoto che mi fa sorridere adesso ancora di più, tempi un po' di meno. Quando io nel 2003 volevo fare una tesi, ho studiato videoarte a Barcellona, volevo fare una tesi su un fenomeno che mi sembrava interessantissimo, ed era il fatto che un ragazzo giapponese, ancora non esistevano YouTube, non esistevano nessuna piattaforma di condivisione dei video, c'erano i primi esperimenti su Google Video, un ragazzo giapponese registrandosi con una webcam metteva il video su internet e d'improvviso nell'arco di un mese 20.000 americani potevano vedere quel video soltanto grazie a internet. Questo fenomeno secondo me è meraviglioso dal punto di vista della comunicazione, è molto nuovo, adesso sembra la cosa più banale e normale del mondo. Quando io pensavo di fare una tesi su questo argomento mi sembrava interessante, ecco ora veniamo al secondo tema, il vicepresidente della mia facoltà di Palermo mi dicevano, no guarda, secondo me il video su internet non ha nessun futuro, per cui un lavoro di tesi su questa cosa non ha un gran senso. E qua veniamo un po' al secondo tema, cioè che cos'è il territorio, che intendo in maniera molto lata. Io sono legatissimo al mio territorio, dopo un percorso fuori poi ho deciso di tornare proprio perché amo tantissimo questa terra. E secondo me, io in questo sono assolutamente in controtendenza col pensiero comune, i limiti che ha questa terra, così come i limiti che hanno tantissime terre simili a queste, in realtà adesso, nella società di adesso, costituiscono il principale vantaggio per sviluppare qualcosa di nuovo. E io sempre dico ai ragazzi con i quali lavoro che se non avessimo avuto un contesto così assolutamente anomalo, un ufficio a mondello, per me è un contesto assolutamente anomalo in un mondo dove appunto i clienti sono multinazionali e le agenzie sono agenzie che fondamentalmente sono a Londra e Milano, non avremmo mai potuto bussare alla porta di certi clienti, di certe agenzie dicendo guarda noi abbiamo un'idea completamente diversa di quella che può essere la comunicazione moderna o un approccio diverso alla comunicazione. Cosa che invece le grosse agenzie non potevano fare perché ovviamente avevano un certo tipo di esperienza e tuttora è così. Tuttora su internet il grosso di investimenti è su creatività assolutamente tradizionale che viene da un background tradizionale, i Bumner e i Popup, che sono replicare un modello tradizionale al mondo di internet, una follia, però purtroppo ancora è così. E qua appunto il secondo tema della creative economy è che il territorio dove spesso ci insegnano che ci sono dei limiti oggettivi per sviluppare delle idee creative, in realtà per me è sempre stato il principale traino per poter fare qualcosa di veramente nuovo e interessante. E io appunto ho sempre pensato che questa tabula rasa, cioè non potersi confrontare con nessun tipo di realtà, in realtà è stato sempre appunto quel traino in più per dire siamo pazzi, facciamo quello che la nostra pezzia ci suggerisce perché tanto nessuno ci potrà mai parlare qua di pubblicità, di che cosa è giusto, di che cosa è sbagliato, non abbiamo clienti con i quali parlare. C'è stata una fase di incubazione del progetto che si chiamava allora la società che avevo fondato, Belsito Media, poi è diventata Mosaicon col Venture Capital. L'altro aneddoto che mi fa anche sorridere è l'aspetto del Venture Capital, anche col Venture Capital io ho pensato che questo progetto abbiamo bisogno dal punto di vista che è più economico e creative, abbiamo bisogno di poter sviluppare questa idea sul locale e ti dicono guarda Venture Capital in Italia se ne fanno 30 ogni 5 anni, per cui farlo a Palermo con ragazzi di 25 anni, con altre tre persone che hanno questa ufficio a Mondello è una pazzia e in realtà siamo riusciti anche a fare quello, per cui anche in quel caso secondo me l'unire un po' la follia del poter portare avanti un progetto innovativo con quello che è un contesto che fondamentalmente ti dice che non si può fare niente è uno stimolo che secondo me adesso assolutamente è importante per i nuovi progetti e lo vedo sempre di più perché poi una cosa che mi stupisce è che più cresciamo più mi rendo conto che andando in determinate società, appunto grosse multinazionali o agenzie di comunicazione chiedono a noi come siamo arrivati a certi tipi di risultati, come lavoriamo e questo soltanto perché sempre grazie a internet da Mondello possiamo seguire tutto quello che accade in America, che accade in Giappone senza nessun tipo di limite geografico e questa per forza di cose costituisce un enorme leva per le nuove creatività perché in contesti ormai super rodati e molto caduti, vecchi che sono quelli dove la creatività ormai è una creatività ancora verticale che segue un quel tipo di modello, invece prendono sempre più piede modelli di creatività nuova, chiaramente il mio settore si parla proprio di creatività che è quella della pubblicità che è una delle forme principali comunque di creatività legata all'ambito professionale, proprio perché non avendo un background, non avendo nessun tipo di confronto, effettivamente le idee nuove nascono proprio là. Questo tipo di cosa noi lo stiamo portando avanti e io chiaramente ripenso sempre a questa citazione di Kubrick perché poi in realtà si fa l'errore di pensare che spesso basta soltanto la creatività, ovviamente sappiamo tutti che non basta soltanto quella, però unendo la tenacia nel voler sviluppare un modello e confortati dal fatto che appunto c'è un terreno assolutamente fertile, assolutamente vuoto, dove non c'è assolutamente niente, dove tutto può essere creato, da creativo chiaramente ho sempre visto questo potenziale come qualcosa di veramente interessante sul quale lavorare. Questa è un po' quello che io penso sia la visione della mia e della Mosaic sulla Creative Economy, io sono poi in questo molto positivo e molto sempre stato ottimista, dove ci sono dei problemi io vedo un sacco di opportunità, specialmente per chi non ha mai avuto opportunità, a prescindere dal territorio anche un approccio nuovo con la comunicazione, quello che secondo me verrà premiato da un tipo di creatività diverso e più stimolante, proprio perché verrà secondo me sovvertito molto un iter che è sempre stato quello e chiaramente in questo internet è stato un volano fortissimo per una società come la nostra che senza internet non l'avrebbero potuto fare. Grazie a tutti.